Quali sono i tempi per la piscina Cappuccini? La piscina Cappuccini credo che domani mattina cambino gli ugelli alla caldaia perché abbiamo fatto tutti i lavori, sono finiti, finalmente abbiamo riallacciato il gas, hanno verificato la caldaia che ovviamente non partiva da tempo e quindi stanno aggiustando le ultime cose nella caldaia affinché possa partire. Spero e ritengo una decina di giorni. Ci sono stati dei problemi al Palatracuzzi? Non sono problemi se non è caduta qualche goccia d'acqua dietro il canestro, può succedere, tra l'altro c'è stata una tormenta, lo sapete meglio di me, non per forza riteniamo sia entrata dal tetto ma può essere qualche fessura nei vetri stamattina o domani mattina al massimo perché la ditta di Siracusa che ha fatto i lavori farà una ricognizione per capire cosa può essere successo. Quindi si sta risolvendo in tempi brevi? Eh, lo ritengo di sì.